Allora, asili nido, parliamo degli asili nido, è vero, non si cancella niente, ma bisogna far anticipare, questo le famiglie per chi ci ascolta da casa, bisognerà che comunque le famiglie anticipino i fondi che poi andranno a rendicontazione. Quindi una famiglia che non ha possibilità di spesa comunque dovrà trovare 3.000 euro da anticipare, che poi gli saranno anche restituiti per l'amor del cielo, ma intanto li deve anticipare. Ma come fa una famiglia che non ha soldi, che non ha fondi e che deve accedere al servizio a dover anticipare 3.000 euro? Dove va? Gli ruba? Non lo so.